Hi guys! Fala galera o la chicos! Ciao ragazzi! Benvenuti oggi in questo nuovo video di FIFA ragazzi e fatemi sapere nei commenti se vi piace l'idea che vi porti anche FIFA 17 in futuro ho provato la demo ragazzi e devo dire che sono rimasto abbastanza contento ecco perché io comunque ho provato FIFA 16, ovviamente tutti i vari FIFA e ci sono state delle migliorie alcune cose sono un po' più strane altre cose sono diciamo nuove ecco però ragazzi hanno cambiato il motore diciamo del gameplay e tutto ed è fantastico ragazzi è veramente bellissimo ovviamente livello di difficoltà leggenda ho scelto la partita Manchester United e Manchester City è la seconda partita che facevo ragazzi e praticamente c'è il commento della partita però come dire questo prima della partita non l'avevo commentato giustamente quindi ragazzi ci vediamo subito nel match ciao ragazzi eccoci qui Manchester United, Manchester City, FIFA 17 ragazzuoli ho un paio di cose da dirvi iniziamo a vedere com'è questo gioco già ho fatto una prima partita finita 0-0 l'ho persa sui rigori ragazzi perché rigori molto diversi molto strani da tirare però se imparate ad usarli sono veramente bellissimi ragazzi ho fatto un paio di acquisti ho comprato delle cuffie da gaming dove cazzo va questo le cuffie da gaming nuove ho comprato oh non si ferma Sagnà ho comprato un attimo solo dai 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 ok nostra ok phone no calcio d'angolo porcaiva comunque raga ho comprato delle cuffie da gaming nuove non tanto ragazzi non tipo le astro che costano 100 euro e passa ma delle cuffie di 25 euro che stavano in offerta perché erano a 50 euro su Amazon poi magari se volete vi lascio il nome in descrizione dai cazzo dai cazzo no vabbè comunque ragazzi questo gioco è abbastanza difficile nel senso la modalità leggenda è abbastanza difficile però si può assolutamente vincere non c'è niente di anormale diciamo ecco di impossibile c'è una nuova modalità The Journey che è stupenda ragazzi il viaggio che sicuramente farò non so se poi ve lo porterò nel canale fatemelo sapere se vi piace l'idea di vederlo nel canale ok ottimo Smalling volevo dire ho comprato oltre alle cuffie ho comprato anche un supporto per il microfono non so se si sente meglio il microfono e tutto con un pop antifiltro attenzione poco no niente ragazzi e ho comprato anche l'Elgato ragazzi ho comprato l'Elgato HD60S presente quello uscito a marzo 2016 purtroppo ragazzi il mio computer non è abbastanza potente per supportare il 1080p a stento riesco a fare i 720p con 60fps ma veramente in modo faticoso cioè il computer usa la 100% della CPU ah perché faccio ste cazzate e quindi raga praticamente non questo cioè nel senso che o mi compro ora un computer fisso abbastanza potente ragazzi e già ho visto un po' ho dato un'occhiata magari se qualcuno li può consigliare un qualcosa magari pure di assemblato perché visto che su Amazon vendono qualcosa di assemblato già io sarei solo contento perché ragazzi compro il computer e porterò magari contenuti non sempre in 1080p però molto più facilmente in 720p con i 60fps quindi per migliorare la grafica ragazzuoli e niente tutto oh cazzo ragazzi sono nella merda Sané è velocissimo dai 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 attenzione ma perché Bailey non corre no 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 ok no 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 ok calcio d'angolo guarda che cazzone belli guarda ok raga di nuovo calcio d'angolo per loro sì no tranquillo dai ok dai 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 Ibra dai Ibra grandissimo Ibra no 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 prendi sta palla ok no cazzo raga comunque io sono abituato a giocare con i tasti praticamente quelli di peste cioè il quadrato si tira nel rosso si mette si mette il cross poi questa partita qua la stavo già avendo cazzo quindi qui con la difesa tradizionale comunque la tattica sì 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 poi c'è qui Runei Rete Rete ragazzi andiamo così che botta di Runei che grande botta raga guardate la grafica guardate i spettatori guardate lo stadio guardate le ombre guardate tutto l'esultanza i tiri guardate ragazzi realissimo purtroppo ragazzi ho provato anche la demo di PES andiamo a Runei ho provato anche voi PES ragazzi e non non mi è piaciuta così tanto nel senso che ho visto dei passi avanti fatti nel motore grafico nei movimenti ma è molto ancora legnoso sembra molto arcade e tra l'altro mancano varie licenze non c'è ragazzi per esempio la mette la Juventus di Manchester United altre ma non so se la Premier League c'è o meno però è veramente una mancanza enorme quindi per me FIFA anche quest'anno ha dominato e dominerà e io credo che quest'anno lo prenderò ragazzi se vi fa piacere io lo prendo cioè nel senso se vi fa piacere io porto dei video a prenderlo lo prendo e sicuramente ci giocherò cercherò anche di fare modalità tipo ultime team e robe del genere Thunder 1 andiamo a fare il 2-0 no cazzo non volevo metterla così come è troppo in larga ok no cazzo passare i minuti a guardare loro che palleggiavano dietro in difesa vediamo ora un po' Nolito no 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 prendici sta palla cazzo se ne fa sempre paura dai 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 bravo Marzial bravo bravo qui ok dai scendoli ok ragazzi primo tempo andiamo al secondo eccoci qui ragazzi al secondo tempo vediamo di fare cose buone di fare il 2-0 raga non voglio andare sui supplementari sui riguri assolutamente quindi vediamo un po' di scamazzare questo Manchester City ovviamente ragazzi se il video vi sta piacendo lasciate un like e fatemi sapere una vostra opinione riguardo al fatto se devo portare FIFA e soprattutto a cose preferite tra FIFA e PES ragazzi tra il mio FIFA e PES se l'avete provato se l'avete provato la demo perché raga sinceramente FIFA IMO cioè personalmente è un gioco ottimo diciamo ragazzi ed è veramente troppo superiore a PES sotto tanti punti di vista poi volevo lasciare un sondaggio quindi per questa cosa qui lo scrivo in inglese però what game do you prefer to see on this channel what game do you prefer between PES 2017 e FIFA 2017 2017 comunque Ibrahimovic facciamo un po' di giochetti ottimo oh cazzo c'è una buona azione stavo facendo una buona azione dai 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 continua ragazzi modalità legge eccolo 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 lo stavo chiamando dai 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 noo raga madonna mia ragazzi per pochissimo stavo pressando ho detto questa qui non la prendo questa qui non la prendo invece l'ho presa e cazzo stavo scendo un goal incredibile da centrocampo praticamente la metà campo dai 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 metti sta palla in mezzo dai 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 uh cazzo ragazzi porca eba calciare d'angolo per noi anche il calciare d'angolo è cambiato vedete c'è questa pallina e mezzo noi dobbiamo premere il cerchio diciamo il cross magari il quadrato per chi usa i tasti classici di FIFA e cercare di direzionare di potenziare bene il tiro diciamo ecco quindi abbiamo hanno cambiato un paio di cose mi pare che le skill alcuni dribbling sono tornati probabilmente a quelli di FIFA 15 non vorrei dire cazzate e niente ragazzi a me personalmente piace come gioco Che cazzo fai Madonna Ragazzi Metto la palla dritta Lì con Darmian Sarune sul secondo palo Dai Rune Dai Rune Oh cazzo Vabbè raga Comunque li stiamo Uccidendo praticamente Questi Manchester City Primo giocato contro la Juventus Ed è molto Molto più forte Di bala E fa paura Invece questi Manchester City Basta che li pressiamo Un po' di più Così Vanno proprio nel panico Vanno nell'ansia Guardate raga Giocano sempre dietro A fare questi passaggini inutili E senza mai trovare una trama Guardate Appena ho parlato Porca Eva Beh comunque non c'è nessun attacco Quindi Che razza Ho fatto fare il volo a quello Ok niente vantaggio Grande arbitro Ho giocato L'uno del Manchester Comunque mi piace Veramente tanto questo gioco Con l'L2 Questi sono i passaggi ragazzi Si fanno i passaggi più forti A meno così Così a me Perché volevo fare il passaggio Col tacchetto Invece fare il passaggio così forte Nel caso magari serva Un passaggio più lungo Vediamo un po' Se mi riesce qualcosa qui Meglio di no raga Meglio giocare Però guardate com'è pure La fluidità del gioco E anche l'intelligenza artificiale Degli avversari Sia veramente Nettamente migliorata Poi ovviamente ragazzi Online Attenzione Premovic Cazzo Ho premuto Perché non tira Perché cazzo Non ha tirato Ragazzi Ragazzi Quindi fatemi sapere un po' Se vi piace l'idea Che vi porti FIFA In futuro Diciamo ovviamente FIFA Online FIFA Ultimate Team Magari delle scalate Che facciamo con le classifiche E tutto Magari 2-3 video a settimana Non di più Perché Giustamente è un canale di GTA Ragazzi Dobbiamo giocare a GTA Questo è tutto ragazzi Portiamo a casa una vittoria Non sto scherzando Comunque Contro il computer Anche se è leggenda E ci vediamo Fatemi sapere la vostra Vi ripeto E ci vediamo Ovviamente ragazzi Al prossimo video So Favalo Well they've got the locks They've got the win Against their Fitter rivals Today The local rivals Splendous satisfaction Oh yeah I mean the build up To this match Has been It